Benvenuti al tutorial per la lettura dei bandi di selezione per la missione all'anno accademico 24-25 per i corsi di laurea in Ingegneria, Design e Pianificazione del Politecnico di Torino. Il primo step è quello di scaricare il bando dal sito del Politecnico. Da Polito.it. Clicchiamo su Didattica. E poi, Iscriversi, Studiare, Laurearsi. Dal menu a destra selezioniamo Corsi di laurea e Bandi di selezione per la missione all'anno accademico 24-25. Cliccando accediamo ai tre bandi per Ingegneria, Design e Pianificazione. Selezioniamo il bando e scarichiamo il PDF. Prima di inoltrarci nella lettura vediamo insieme quali sono le principali novità previste per il 24-25. Non sono previsti bandi specifici per i candidati richiedenti visto. Il test da remoto non è disponibile. È stata innalzata la soglia per l'ingresso in graduatoria a 30 su 100. Sono stati aggiornati gli elenchi di API e IER scozzesi accettati. Per comunitari ed equiparati è stato eliminato il TIL per la laurea professionalizzante in tecnologie per l'industria manifatturiera, detto TIL-LP, sostituito dal TIL di Ingegneria. Per i candidati richiedenti visto è stata reinserita la soglia di garanzia. Per tutti i candidati sono accettati i certificati internazionali SAT, ACT, GRE e GIMAT in sostituzione del TIL, non valido per architettura. Come si legge il bando? Per prima cosa, consultiamo l'indice e cerchiamo di capire i principali argomenti trattati. All'inizio del bando si trovano le definizioni dei soggetti coinvolti. Leggiamo per capire che tipo di studente siamo. Prestiamo attenzione alle scadenze e alle parti in grassetto che contengono le informazioni più rilevanti. Il bando contiene requisiti, date del test e soglie di ammissione. È possibile sostenere il TIL per un massimo di tre volte e solo una volta per sessione. Nel caso di ripetizione del test, è considerato valido il risultato migliore. Il TIL si terrà presso i laboratori informatici d'Ateneo, l'AIB. L'iscrizione al TIL avviene attraverso la registrazione sulla piattaforma di Ateneo e il pagamento del contributo di iscrizione. Per il TIL di Ingegneria è possibile indicare nella sezione scegli il percorso, fino a cinque scelte tra i corsi di laurea, in ordine di preferenza. All'articolo 4 si trovano le modalità di pagamento per l'iscrizione al TIL. All'articolo 5 sono specificate le modalità di iscrizione e partecipazione per le persone con disabilità e con disturbo dell'apprendimento. Negli articoli successivi si trovano informazioni relative al contenuto del test e alla modalità di valutazione. È necessario superare i 30 punti su 100 per l'inserimento in graduatoria, solo per la laurea professionalizzante la soglia è maggiore di zero, ma il corso è selezionabile solo da studenti comunitari e equiparati. Le soglie di garanzia sono 60 su 100 per Ingegneria e Pianificazione e 70 su 100 per Design. Gli articoli 10, 11 e 12 contengono informazioni sulla graduatoria, come viene formata e come vengono impostati gli scorrimenti. L'articolo 13 contiene informazioni relative agli esoneri dal TIL di Ingegneria, Pianificazione e Design, con le certificazioni accettate, modalità di invio e scadenza per presentare i documenti. L'articolo 14 contiene i requisiti e la procedura per l'immatricolazione con scadenze e modalità per fermare il posto e perfezionare l'immatricolazione. Negli articoli successivi vengono descritti casi specifici come il sostenimento di più test, la contemporanea iscrizione, le modalità di accesso per persone già iscritte a un corso di laurea o decadute. Si elencano infine gli uffici responsabili per il bando. Non bisogna dimenticare gli allegati al bando. Per Ingegneria, all'allegato, A, è possibile conoscere i posti disponibili per ciascun corso. L'allegato, B, contiene i requisiti per l'immatricolazione per studenti con titolo italiano ed estero. Si elencano i documenti necessari per l'immatricolazione, i certificati di lingua accettati e i casi di esonero. L'allegato, C, contiene i requisiti specifici per i titoli britannici, scozzesi, statunitensi e baccellierato internazionale. L'allegato, D, contiene la tabella dei titoli di studio italiani il cui possesso esonera i candidati dal TIL di Ingegneria. I bandi di pianificazione e di design contengono unicamente gli allegati A e B. L'allegato, A, contiene i requisiti per l'immatricolazione, mentre l'allegato, B, contiene i requisiti specifici per i titoli britannici, scozzesi, statunitensi e baccellierato internazionale. Raccomandiamo una lettura attenta e scrupolosa di tutti gli articoli e gli allegati al bando. L'ufficio Promozione Orientamento e Accesso rimane a disposizione per chiarire i dubbi e vi invita a partecipare ai webinar che si terranno nei prossimi mesi.